Una sottopagina è qualsiasi pagina del tuo sito web esclusa alla home page. Per migliorare il posizionamento del tuo sito nei motori di ricerca, devi ottimizzare tutte le pagine per parole chiave, comprese le tue sottopagine. Ranking Coach ti permette di dare priorità alle parole chiave per specifiche sottopagine, ma prima di iniziare ti consiglio di utilizzare alcune accortezze nella scelta delle parole chiave. Devono essere specifiche per il tema trattato nella sottopagina. Devono essere dettagliate. Ti consiglio di usare parole chiave composte da tre o più termini e che non superino i 60 caratteri. E devono includere la posizione, se si opera a livello locale. A questo punto puoi procedere. Accedi alla dashboard di Ranking Coach. Vai alla scheda Motori di ricerca nel menu di sinistra. Clicca su Sottopagine. Per aggiungere una pagina interna del sito, clicca su questo pulsante. In schermata, dal campo indicato, inserisci l'urla della sottopagina digitando solo la parte dell'urla che segue la barra obliqua, anche chiamata slash. Ad esempio, se l'urla della tua sottopagina è www.miodominio.com.com. slash mioprodotto.html, devi digitare solo Mio prodotto. Dopo averla creata, trascina le parole chiave che vuoi associare a quella pagina. Se invece desideri cancellare la sottopagina inserita, clicca su questo pulsante.